Un passato difficile, anche per lui di miseria, droga e microcriminalità, poi il desiderio di riscatto per sé e per tutti i bambini nella difficile mondo di Scampiale Vele a Napoli. Nasce così il progetto L'Albero delle Storie, una ludoteca ed un centro sociale e culturale per intere famiglie. Davide Cerullo è la dimostrazione vivente di una nuova possibilità in qualsiasi contesto, anche il meno congeniale, come recita il sottotitolo del suo ultimo libro Poesia Cruda, L'irrecuperabile, non esiste. Tutto questo grazie soprattutto alla fede che gli ha dato la motivazione giusta per sperare in un futuro diverso e migliore. Non è stato difficile appunto entrare a far parte del girone infernale della malavita organizzata, ma altrettanto poi c'è stato l'impatto con l'istruzione, con la poesia, con i libri, con Pasolini, con Danilo Dolci, Nelson Mandela, che con quelle parole, con quell'incontro o con quello essersi ritrovati e quindi dalla forza sanitaria delle parole di queste persone ho potuto convincere me stesso, rendermi consapevole della grandezza che mi portavo dentro e quindi con quella grandezza convincermi della possibilità che potevo venirne fuori, che potevo vincere, che non ero irrecuperabile. Gli irrecuperabili non esistono, sono solo un'invenzione della nostra cattiva volontà. Di questo e di molto altro, Davide Cerullo parlerà domani pomeriggio alle 16 al Salone del Santuario Divina Misericordia di Pescara in un incontro organizzato dall'Associazione Educando. Un appuntamento imperdibile nel quale Davide parlerà di come è possibile far vivere un sogno anche in contesti sociali dove sognare appare difficile, come le periferie. All'età di 14 anni brandivi una pistola, poi al posto della pistola sono arrivati i libri, libri che ti hanno in qualche modo salvato la vita, ma anche la stessa fede nella tua biografia si legge di un Vangelo trovato su uno comodino al carcere di Poggio reale. Da bambino, da piccolo sognavo di avere una pistola, oggi da grande sogno di essere un bambino e quindi recuperare un po' quella leggerezza, quel senso dello stupore di fronte alle cose semplici, normali che nella vita di un bambino, di un adulto, nella vita di una persona in generale ci devono essere per far sì che quella vita possa essere una vita riuscita. Grazie.